Hi everyone e benvenuti in questo nuovo video di come disegnare manga. Come disegnare manga è una playlist presente sul mio canale dove vi ho illustrato e continuerò a illustrarvi tutto ciò che so su come si disegna un manga partendo dalla storia poi passando per il name come si deve impostare una vignetta come si deve impostare una pagina tutte queste cose qui le potete trovare nella playlist il video di oggi è il secondo video di una mini serie di tre in cui vi continuerò a mostrare come usare i retini analizzati nei video precedenti che vi consiglio di andare a vedere altrimenti non capirete niente vi continuerò a mostrare come questi retini vengono messi in pratica sulla tavola e quali effetti danno ed allora bando alle ciance e cominciamo altro strumento di cui non vi ho parlato la volta precedente perché davo per scontato è il reghello o la squadra da taglio da taglio cosa vuol dire che lo comprate gli chiedete scusa per il fatto che finirà presto in pezzi perché per rifinire i contorni come per esempio in questo caso tutte le linee dritte serve un righello e soprattutto all'inizio quando magari non avete la mano questo righello finirà man mano può perdere tutta la sua come dire non sarà più in grado di tirare linee dritte servirà appunto per tagliare e basta ecco perché squadra da taglio quindi prendete la vostra squadretta righello da taglio e andate a tagliare e ridefinire leggeri deve andare via solo il retino non tutto il resto della tavola gli avanzi del retino tornano da dove sono venuti in questo caso è solo il righello esterno però nel caso soprattutto con i puntinati come dopo vi mostrerò è bene prenderne ogni singolo pesettino che magari in un futuro possa tornare utile o meno senza contare che i retini purtroppo qua in italia hanno ancora un costo abbastanza elevato quindi meno ne sprecate più sarete contenti fidatevi di me attenzione quando gli andate a sistemare di non sovrapporli troppo ok questo è il risultato finale che ora noi andremo a fissare ulteriormente con la palettina ecco vediamo se ecco vedete già io qua sono stata un po troppo pesante se notate c'è un leggero dagliattino che potrebbe già essere un danno irreparabile ma va bene così come io ho già detto anche nel video precedente occhio anche alla carta che utilizzate io in questo momento sto usando un po di più le linee questo è un foglio proprio pensato per appunto disegnare i mangue i fogli al posto per disegnare mangue è un b5 liscio 135 grammi ed è l'ideale per usare i retini quantomeno con questo foglio sono sicura che non si rompono non si strappano quando cerchi di sfumarli non ti fanno giochetti strani l'ho usato all'incontrario perché in questo momento a me le linee che di solito servono per la tavola non mi servivano e quindi l'ho girato e l'ho utilizzato al contrario nella vignetta 2 penso proprio che tenterò un abrasione tramite gomma questo che sto per andare a usare è un puntinato e quindi mi raccomando al come lo posizionate adesso proverò a passare la gomma abrasiva e vediamo cosa succede ricordate di lasciare un margine significativo quando andate a sistemare il retino che andate a ritagliare dopo ma prima è bene che ci sia perché lavorare in estremis rischia di rovinare tutta la tavola e di non rendere gli effetti quando andate a ritagliare ma anche a inchiostrare è sempre bene girare il foglio perché in questo senso è il foglio che si deve adattare a voi e non voi al foglio l'ultima volta diciamo che andate a usare la palettina ricordate di pigiare bene senza paura perché deve risplendere il nero che c'è sotto non si dovrebbero vedere gli aloni lasciati da retino la gomma è una cosa che uso io per autoconvincimento personale che magari migliora un po' l'effetto ma in linea teorica la uso per pulire appiccicaticcia prende via la schifezzina e la porta lontana dalla nostra tavola ripeto è una sorta di autoconvincimento personale non significa che sia vero né che sia effettivamente effettivo quello che ho appena detto ok adesso andrò ad applicare le tecniche di sfumatura col taglierino penso che userò la punta di punta e creerò le varie sfumature che avevo pensato per la vignetta andando anche poi dopo a ritagliare qui sto andando a usare il taglierino di piatto non più di punta poi come vi dicevo prima il foglio si adatta a voi e non voi al foglio e anche per questo secondo video è tutto ci vediamo settimana prossima con la terza e ultima parte spero che vi sia stato utile di qualche ispirazione e non dimenticate se vi è piaciuto di lasciare il like e di iscrivervi al canale come giustamente suggeriscono anche loro grazie ancora per l'attenzione e a settimana prossima allora ciao 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 ciao